Innanzitutto parliamo della partita, poi di tutto il resto, perché oggi sei entrato in campo, secondo me hai fatto un'ottima prestazione. Che emozioni sono state? Insomma purtroppo è arrivata una sconfitta, però l'ultima qui come è andata? No, era una partita difficile. Abbiamo giocato con tanti giocatori giovani, mancava anche giocatori importanti, ma penso abbiamo fatto gli ultimi 15-20 minuti una partita bella. Spero l'anno prossimo e vediamo anche un grande udonese. Insomma tu sei saluti, che emozione è fare la tua ultima partita qui di fronte al pubblico amico? Per me è stato un onore giocare qua, ho impegnato tanto, posso dire anche che era la mia ultima partita in questa maglia. Sì, ho giocato con tante emozioni, voglio ringraziare a tutti, a tifosi, a famiglia di Pozzo, a tutti. Ma posso dire che era la mia ultima partita, ho parlato con mia famiglia, è tempo per andare. Tu sei arrivato qui, hai fatto tante cose belle in campo, sei un personaggio meraviglioso anche fuori, insomma la laurea, è nato tuo figlio, diciamo che il Friuli ti rimarrà nel cuore. Sì, Friuli è sempre il mio cuore, anche mia famiglia, il terzo bambino, l'abbiamo fatto qua. Ho conosciuto tante gente incredibile, Friuli è una gente incredibile. Per me è difficile andare, ma penso il tempo giusto per ringraziare e per andare. Ma è stato per me sempre un onore giocare, essere qua e anche con voi. Io posso solo dire grazie per tutti. Penso che avete adesso giocatori importanti, giocatori giovani. Io sono sempre il tifosi numero uno da voi.